La famiglia di Antonio Bellocco, l'ultras dell'Inter ucciso nei giorni scorsi a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, esprime la propria amarezza, unita al forte dolore, circa il costante riferimento da parte dei medi al vincolo di parentela della vittima con le persone in passato condannate per associazione mafiosa. E' quanto si afferma in una nota diramata attraverso il proprio legale di fiducia, l'avvocato Giacomo Iaria, del foro di Reggio Calabria, dai familiari della vittima che era originaria di Rosario. Nell'attesa è scritto che la vicenda al vaglio degli inquirenti assuma dei tratti definiti circa il muovente e la dinamica dei fatti. Antonio, è detto ancora nella nota della famiglia Bellocco, era un giovane calabrese, padre di due figli che, dopo aver pagato il proprio debito con la giustizia, aveva deciso di dare una svolta concreta alla propria vita, trasferendosi a Milano dove, in regime di libertà vigilata, conduceva una vita nel pieno rispetto delle regole civili. Ciò che è accaduto non può, allo Stato, essere in alcun modo ricondotto a contesti di criminalità organizzata e citare, come più volte accaduto, i genitori, entrambi detenuti al 41 bis. Non evidenzia appieno il lato tragico della vicenda, spostando l'attenzione mediatica sui trascorsi giudiziari della vittima e non sulla progressione della condotta criminale appartenente ad una persona già aggravato di provvedimenti disciplinari penali a causa del proprio comportamento al di fuori dei contesti di legalità. La madre della vittima, Aurora Spanò, e i fratelli si affidano all'iter giudiziario, sostiene l'avvocato Iaria, che seguirà tale grave fatto delittuoso, confidando nell'operato della magistratura e attivandosi attraverso tutti gli strumenti legali consentiti per tutelare la figura di una giovane al quale, per ragioni oggi sconosciuto non definitivamente accertate, è stato sottratto per sempre il suo ruolo di padre e marito del suo nuovo nucleo familiare.